Edizione della notte del nostro telegiornale, bentrovati, un cordiale saluto a voi tutti dalla redazione di Telemolise. Si sono concluse le elezioni politiche. In Molise i risultati sono definitivi. Scrutinate tutte le 393 sezioni nell'intera regione. Ascoltiamo i dati e guardiamo la grafica in compagnia di Anna Maria Di Matteo. Camera uninominale, centrodestra, Lorenzo Cesa, 55.472, 42,9%. Proporzionale, Forza Italia, Anna Elsa Tartaglione, Armando De Gidio, 14.701, 11,4%. Lega Salvini, Michele Marone e Rita Colaci, 11.042, 8,5%. Noi moderati, Filomena Calenda, Vittorio Colarelli, 2097, 1,6%. Giorgia Meloni, Elisabetta Lancellotta, Luciano Paduano, 27.632, 21,4%. Uninominale Camera, centrosinistra, Alessandra Salvatore, 30.189 voti, 23,3%. Proporzionale, Partito Democratico, Caterina Cerroni, Vittorino Facciolla, 23.444 voti, 18,1%. Verdi Sinistra, Saraferri, Nicola Fratoianni, 3815, 3%. Impegno Civico Di Maio, Iolanda Di Stasio, Alessandro Amitrano, 887 voti, 0,7%. Più Europa, Emma Bonino, Manuela Zambrano, Maurizio Sorice, 2043, 1,6%. Movimento 5 Stelle, Riccardo Di Palma, 31.441, 24,3%. Proporzionale, Anna Maria Belmonte, Pasquale Casmirro, 31.441, 24,3%. Azione Italia Viva, Donato D'Ambrosio, 6.250 voti, 4,8%. Proporzionale, Giuseppina Occhio Nero, Fabio Iannucci per la lista Calenda, 6.250, 4,8%. Italia Sovrana Popolare, Giovanni Moriello, 2.128 voti, 1,6%. Nella lista, Stefano D'Andrea, Valeria Soru, 2.128, 1,6%. Unione Popolare, Icmet Aslan, 2.306 voti, 1,8%. Nel proporzionale, Nicoletta Radatta, Icmet Aslan, 2.306 voti, 1,8%. Noi di Centro, William Cerallo, 1.516 voti, 1,2%. Proporzionale, Alessandrina Lonardo, William Cerallo, 1.516 voti, 1,2%. Senato Uninominale, Centrodestra, Claudio Lotito, 55.656 voti, 42,9%. Proporzionale, lista Meloni, Costanzo della Porta, 29.063, 22,4%. Forza Italia, Nicola Cavaliere, 16.434, 12,6%. Noi moderati, Domenico Izzo, 1.725, 1,3%. Lega Salvini, Alberto Tramontano, 8.434, 6,5%. Senato Centrosinistra, Rossella Gianfagna, 30.503, 23,5%. Proporzionale, Partito Democratico, Giuseppe Cecere, 23.790, 18,3%. Impegno Civico, Di Maglio, Gaetano Giudice, 925, 0,7%. Più Europa, Emma Bonino, Giuseppina Di Stasi, 2.006, 1,5%. Verdi Sinistra, Bartolomeo Terzano, 3.782, 2,9%. Movimento 5 Stelle, Ottavio Balducci, 31.614, 24,4%. Proporzionale, Maria Del Mirto, 31.614, 24,4%. Azione Italia Viva, Carla Gianmaria, 6.029, 4,6%. Proporzionale, Lista Calenda, Luigi Valente, 6.029, 4,6%. Italia Sovrana e Popolare, Nicola Lanza, 2.211, 1,7%. Proporzionale, Nicola Frenza, 2.211, 1,7%. Unione Popolare, Rossano Pazzagli, 2.293, 1,8%. Proporzionale, Rossano Pazzagli, 2.293, 1,8%. Noi di Centro, Antonio Visco, 1.380, 1,1%. Proporzionale, Gianluca Di Pasquale, 1.380 voti, 1,1%. Le urne hanno sancito anche in Molise, come del resto in tutto il paese, in tutta la nazione, la vittoria del centrodestra. Sono andati infatti alla coalizione di centrodestra i seggi del Senato, Claudio Lotito, Costanzo Della Porta, e quello della Camera dei Deputati al maggioritario, con Lorenzo Cesa. Resta da assegnare il quarto seggio proporzionale alla Camera dei Deputati, ma sono anche altri risultati che ci hanno dato le urne. Il Movimento 5 Stelle è il primo partito in regione, e invece sono ora sconfitta per il Partito Democratico. Ascoltiamo l'analisi del voto. Cala il sipario sulle elezioni politiche. A urne scrutinate il risultato molisano in linea con quello nazionale premia il centrodestra che manda in Parlamento i due candidati ai collegi uninominali, Claudio Lotito al Senato e Lorenzo Cesa alla Camera. A Palazzo Madama arriva anche Costanzo Della Porta, trasportato dall'onda lunga di Giorgia Meloni. In bilico tra Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia, il quarto seggio in palio, quello al proporzionale Camera, conteso rispettivamente tra Anna Maria Belmonte e Elisabetta Lancellotta. Il risultato per il centrodestra è un robusto 43% sia al Senato che alla Camera, che surclassa il centrosinistra fermo al 22. Risultato a doppia lettura per il Movimento 5 Stelle che resta, come nel 2018, il primo partito in regione ai pentastellati, che comunque perdono 20 punti percentuali rispetto alla precedente tornata elettorale, va un 24% che peserà in maniera determinante in vista delle prossime regionali. In caso di ricucitura dell'alleanza col PD, fermo al 17%, saranno i pentastellati a dettare le regole del gioco. E' questo in prospettiva il dato più significativo sul piano politico. Nella classifica regionale il centrosinistra finisce in terza posizione e dovrà risalire una classifica da un punto di debolezza che avvantaggia indubbiamente il centrodestra, che complessivamente guadagna 13 punti percentuali rispetto alle elezioni del 2018. A destare invece preoccupazione il forte astensionismo registrato in regione. Rispetto al 2018 la percentuale dei votanti crolla del 15% e sono ben 47.000 i molisani che rispetto alla precedente tornata non hanno partecipato al voto, un astensionismo che alla luce dei risultati va diviso tra l'arretramento del Movimento 5 Stelle rispetto al 2018 e la sconfitta del centrosinistra. Chiusa la partita delle politiche, domani torna a riunirsi il Consiglio regionale e da domani parte di fatto la campagna elettorale per le regionali 2023. E come dicevamo Claudio Lotito è stato eletto al Collegio Uninominale Senato del Molise e ha detto porterò le istanze di questa regione in Parlamento. Sentiamo cosa ha detto a caldo nella notte elettorale. Lei rappresenterà il Molise al Senato. Una campagna elettorale sul territorio che ha pagato? Io ho messo cuore, passione e sentimenti autentici che sono stati recepiti dai molisani che mi sono entrati nel cuore e che hanno capito la mia totale disponibilità con spirito di servizio a quelli che sono i problemi del territorio dei molisani che istanze che io porterò in Parlamento con la stessa determinazione e con lo stesso atteggiamento politico che ho impiegato nella campagna elettorale. Un centrodestra unito? Assolutamente sì, un centrodestra unito, anzi ringrazio tutti i partiti che mi hanno sostituto in particolar modo Forza Italia che mi ha candidato e i candidati di Forza Italia che mi hanno introdotto e sopportato per tutta la campagna elettorale e sopportato soprattutto alcuni candidati con i quali abbiamo condiviso le fatiche della campagna fatiche che poi hanno portato a questo risultato. I molisani non saranno traditi nelle loro aspettative perché lo meritano e perché soprattutto il Molise è una terra fantastica che ha bisogno che qualcuno dia voce in Parlamento purtroppo troppo dimenticato negli anni precedenti. Adesso lei sarà in Molise spesso così come c'è stato in questi giorni e anche in futuro? Assolutamente sì, non intendo assolutamente tradire quelle che sono le aspettative dei molisani perché è il mio modo di essere quello di mantenere gli impegni che prendo. Il problema sicuramente della sanità, il problema delle infrastrutture e soprattutto eliminare da questo isolamento mediatico e chiamiamolo così anche politico nazionale la regione Molise e i molisani. Ritengo sia anche un fatto di buonsenso che una regione come il Molise debba avere necessariamente una squadra nel settore professionistico. Ci adopereremo perché ciò accada. Giovani, lei è stato molto in mezzo ai giovani. Per loro? Per loro voglio lanciare un appello di avere fiducia perché inizierà una nuova stagione una stagione fatta sulla valorizzazione del territorio sulla valorizzazione dell'eccellenza che ha questo territorio che consentirà sicuramente di poter dare anche uno spiraglio all'occupazione dei giovani e soprattutto creare una sinergia con quelle che sono gli indirizzi di studio quindi mi riferisco all'università e alle scuole con tutte le associazioni di categoria con FINDUSSIA, con FAPI, con FARTIGIONATO per trovare anche un sistema di integrazione immediato nel settore produttivo attraverso degli stagioni che possono poi trasformarsi in posti stabili. Recipieremo le stanze del territorio le trasmetteremo a Roma e le trasformeremo in provvedimenti normativi supportati anche da aspetti economico-finanziari per dare risposta a questi problemi. non c'è un problema di schieramenti noi abbiamo un problema di risolvere quello che le stanze del territorio e dare risposte, fatti e non parole azioni concrete al di là dell'appartenenza. Ed è arrivata in questo momento la notizia dell'assegnazione del quarto seggio della delegazione parlamentare molisana va a Caterina Cerroni del Partito Democratico Caterina Cerroni, segretaria nazionale dei Giovani Democratici era candidata anche al collegio di Roma 3 dove non è stata eletta è stata invece eletta in Molise e lei la quarta parlamentare per la nostra delegazione. Andiamo avanti e torniamo a Lotito. A Isernia Claudio Lotito alle celebrazioni in onore dei Santi Cosma e Damiano dopo la lunga notte di spoglia elettorale il neo-senatore molisano sostenuto dalla coalizione di centrodestra ha partecipato alla Santa Messa nella cattedrale di San Pietro Apostolo per me è doveroso essere qui soprattutto perché sono un credente ho preso un impegno con il Molise e voglio essere vicino a tutti i cittadini ha detto Lotito. E alla Camera dei Deputati invece il collegio uninominale lo ha conseguito Lorenzo Cesa candidato con noi moderati ascoltiamo il servizio di Tonino Danese. Il centrodestra governa questo paese con molta determinazione ma con le idee molto chiare su quello che bisogna fare un centrodestra unito, coeso che questo è abbiamo fatto il programma in due giorni questo la dice quindi lunga sull'unità del centrodestra quindi sono molto fiducioso che possiamo cambiare davvero le sorti di questo paese e per quanto ci riguarda riguarda me e Claudio possiamo dare una mano davvero fatta di concretezza a questa regione che ha bisogno di un sostegno molto molto serio. Anche per lei le priorità? La priorità assolutamente è il tema della salute ma siamo d'accordo con Claudio che faremo insieme un'iniziativa di legge faremo in modo che sia zeri commissariamento in questa regione che è l'unica regione commissariata in questo paese mi sembra che questo sia veramente ingiusto nei confronti dei 280 mila molisani e noi siamo impegnati ad azzerare il commissariamento che significa azzerare il debito faremo in modo che ci siano maggiori risorse al sostegno della salute dei cittadini di questa regione che è fatta da 136 comuni non è una circoscrizione di Roma faremo innanzitutto questo come primo atto. Lei ha imparato a conoscere il Molise perché l'ha girato già lo conosceva però che cosa ha imparato di più di questa terra? La bontà l'affetto di questo popolo straordinario mi ricorda il mio paesino Arcinanzo dove sono nato fa 1500 abitanti piccole comunità tenute in maniera straordinaria che denotano queste comunità l'amore che i cittadini hanno per la loro terra noi dobbiamo evitare che questi paesi si spopolini questo è il nostro dovere morale e politico che ci siamo assunti venendo qui facendo una campagna elettorale straordinaria visitando tutte le comunità parlando con le categorie parlando con l'associazionismo che assiste situazioni di debolezza che esistono che hanno in famiglia le famiglie molisane noi saremo qui per dare una mano aprendo una nuova fase quella del dialogo non più io 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 ma come dice il Santo Padre noi dobbiamo passare dal singolare al popolare noi faremo daremo una mano insieme io e Claudio che siamo amici peraltro quindi tutti lo sanno siamo anche amici personali da moltissimi anni saremo qui presenti per i prossimi 5 anni in maniera continuativa per rispondere alle problematiche che ci arriveranno dal basso non siamo persone di passaggio siamo persone che hanno la loro storia che hanno dimostrato nel corso della vita di saper far polirio di saper fare imprenditore vorremmo mettere a disposizione la nostra esperienza dei molisani grande vittoria di Giorgia Meloni e di Fratelli d'Italia in Italia e in Molise partiti dall'1,8% nel 2013 oggi possiamo dire che quella scommessa in cui pochi credemmo è vinta anzi stravinta lo afferma il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Filoteo Di Sandro commentando l'esito del voto a nome di tutto il partito molisano esprimo grande soddisfazione per il risultato ottenuto e soprattutto per l'elezione di Costanzo Della Porta al Senato con questo risultato guardiamo al futuro con speranza e fiducia sia per l'Italia che per il nostro Molise e nella notte elettorale abbiamo intervistato proprio il neo senatore Costanzo Della Porta ascoltiamo cosa ci ha detto da azione giovani al Senato della Repubblica forse anche dal fronte della gioventù un percorso politico identitario fortissimo tutto interno alla destra e la destra vince queste elezioni politiche le vince a piene mani Giorgia Meloni ha come dire trainato la destra verso questo successo lei ne è stato parte quali sono i suoi sentimenti il primo commento a caldo beh devo dire tu hai rappresentato in maniera perfetta anche il mio stato d'animo io vengo da quella storia come Giorgia che conosco dal 1996 e possiamo dire ho coronato un sogno per me la politica è passione sempre dalla stessa parte è stato un percorso lungo però pieno di soddisfazioni oggi il fatto di essere eletto al Senato ci da ci onora certamente ci onora anche di una grande responsabilità è quello ovviamente di fare il bene del Molise dell'Italia ecco da più parti si è sentito questo appello lo hanno ripetuto anche ai nostri microfoni sia Lorenzo Cesa che Claudio Lotito di provvedimenti straordinari per il Molise tu sei anche amministratore di un piccolo comune ma adesso sei rappresentante come dice la Costituzione della nazione in ogni caso sei un parlamentare espressione del Molise la sanità le infrastrutture il lavoro sono dei temi cruciali su questo c'è un impegno da parte ripeto lo abbiamo sentito di Lotito e Cesa di un provvedimento straordinario per il Molise ecco in questa direzione possiamo immaginare anche il tuo impegno sì anche perché lo abbiamo già detto in tutte le salse in tutte le riunioni che abbiamo fatto scorrazzandoci per il Molise da Termoli a Venafro io credo ne abbiamo già parlato con Lorenzo e Claudio Lotito ne ho parlato anche con Elisabetta Lancellotta che è la nostra candidata alla Camera che spero anche lei possa raggiungere il risultato è necessario intervenire immediatamente con un decreto ad hoc per il Molise che voglio dire tenga ben presente almeno due temi immediatamente la sanità e le infrastrutture viare come dicevi prima tu quindi su questo lavoreremo insieme a tutti i parlamentari eletti in Molise che non sarebbe stata una corsa facile lo sapevamo in partenza ma abbiamo scelto di esserci con convinzione essere stata della partita aver lottato fino all'ultimo con tutte le mie forze era quanto dovevo alla mia regione sono felice e orgogliosa di averlo fatto così Rossella Gianfagna candidata del centrosinistra al Senato commenta all'esito delle elezioni i molisani si sono espressi hanno scelto i loro rappresentanti in Parlamento aggiunge è la democrazia che ci insegna a riconoscere i vincitori auguro alla coalizione che ha vinto questa sfida elettorale buon lavoro e soprattutto di mantenere fede agli impegni presi i molisani lo meritano paghiamo l'assenza di capacità di fare aggregazione prima un sistema maggioritario impone l'aggregazione e amareggiato il segretario regionale del PD Vittorino Facciolla si deve aprire un confronto serio in vista delle prossime sfide ascoltiamo il servizio di Andrea Nasillo c'è amarezza nelle parole del segretario regionale del PD Vittorino Facciolla che commenta la sconfitta del Partito Democratico della coalizione di centrosinistra si apre quindi un percorso necessario di confronto e analisi di quanto fatto e proposto le elezioni regionali sono vicine e le nuove sfide appaiono sempre più grandi per Facciolla candidato sul proporzionale alla Camera in posizione 2 il partito ha pagato l'isolamento il segretario del PD parla di mancanza di aggregazione chiaramente delle forze politiche ideologicamente più vicine che andava fatta prima non bene il problema credo che sia facilmente riconducibile all'assenza di capacità di fare aggregazioni prima ripeto un sistema elettorale maggioritario impone le aggregazioni i sistemi elettorali sono un po' la stella polare che deve dare indicazioni di natura comportamentale ai partiti quando ci si isola in un sistema elettorale maggioritario le conseguenze sono o possono essere quelle di non raccogliere nonostante gli sforzi incredibili anche nella scelta dei candidati in una campagna elettorale massacrante fatta comune per comune quelli che lecito attendersi e ora ci spostiamo sul fronte del Movimento 5 Stelle che in Molise è il primo partito con oltre il 24% dei consensi ma perde oltre 20 punti rispetto alle politiche del 2018 per il coordinatore regionale Antonio Federico però è sbagliato analizzare il voto paragonando i due dati ascoltiamo Enzo Luongo In Molise il Movimento 5 Stelle dopo le elezioni di ieri è il primo partito con oltre il 24% dei consensi al Senato confrontando i dati attuali con quelli delle precedenti politiche del 2018 emerge però che i 5 Stelle perdono circa 20 punti erano al 44,5% il coordinatore regionale Antonio Federico ritiene sbagliato analizzare il voto paragonando i due dati questo genere di confronto secondo me è abbastanza ingeneroso semplicemente per il fatto che il 2018 è un contesto storico e politico completamente diverso in cui noi venivamo da anni di battaglie all'opposizione anche forti e che ci hanno permesso di avere un risultato importante così come oggi vediamo con Giorgia Meloni con i suoi fratelli d'Italia abbiamo però fatto quattro anni e mezzo di governo quattro anni e mezzo in cui abbiamo fatto realizzato gran parte del nostro programma e questo nessuno ce lo può togliere e abbiamo anche gestito il paese nelle crisi peggiori cioè con la pandemia con la guerra con la crisi energetica tutte cose che alla lunga paghi dai neoparlamentari del centro-destra Cesa e Lotito è arrivata la disponibilità a collaborare anche con le cariche istituzionali dei partiti avversari andremo dal sindaco di Campobasso Gravina hanno detto Cesa e Lotito ma mi sembra il minimo da fare io l'ho fatto in questi anni cioè l'ho parlato con tutti i sindaci anche con il presidente della regione anche quando lui non voleva creare le condizioni per un dialogo per risolvere i problemi di Molisani la prima cosa che mi viene in mente è la questione della ricostruzione post-sisma in cui una leale collaborazione avrebbe messo in condizioni quella realtà di poter ripartire prima possibile Archiviate le politiche da oggi si guarda alle elezioni regionali presto per dire se i PD e 5 Stelle si aleranno per Federico si deve ripartire dall'opposizione al centro-destra in Parlamento La dirigenza del Partito Democratico a livello nazionale non è stata adeguata a portare avanti un'agenda politica ora se ci trovi un'agenda politica progressista che tra l'altro abbiamo scritto insieme durante il Conte 2 e quindi quei punti quei principi sono stati traditi in queste settimane in questi ultimi mesi da Enrico Letta e tutta la dirigenza del Partito Democratico ora faremo opposizione insieme in Parlamento ci saranno le condizioni per fare delle battaglie insieme io lo spero perché noi siamo lì sempre con gli stessi temi devono essere loro che devono ritornare su quei temi e chiudiamo e chiudiamo la lunga pagina elettorale adesso per occuparci di cronaca con una brutta storia che arriva dalla scuola di San Lazzaro a Isernia qui una maestra è stata sospesa dopo ripetuti episodi di maltrattamenti verbali e psicologici ai danni di un bambino di 4 anni oggi il provvedimento è stato illustrato in procura al termine delle indagini condotte dai carabinieri ci dice tutto Valeria Migliore io ti spezzo le braccia ti prendo per il collo e ti appendo come polli tu non sei un bambino come gli altri sei un animale sono queste solo alcune delle frasi che una maestra avrebbe rivolto a un suo alunno un bambino di 4 anni della Giovanni XXIII di San Lazzaro a Isernia crisi di pianto incubi che lo svegliavano durante la notte e una costante paura che ha portato il piccolo a isolarsi tutto quello che ha una mamma non può sfuggire così è andata a scuola e ha visto con i propri occhi la maestra che metteva a testa in giù suo figlio e gli dava uno schiaffo ha denunciato e i carabinieri di Isernia hanno attivato il codice rosso l'insegnante è stata sospesa dall'insegnamento per 4 mesi nel corso della conferenza stampa il procuratore Carlo Fucci ha voluto ribadire all'opinione pubblica quanto le forze dell'ordine siano vicine ai cittadini che devono avere fiducia e denunciare episodi simili purtroppo c'è questo ripetersi di episodi violenti parliamo di violenza fisica parliamo di violenza verbale evidentemente bisognerebbe come dire essere attenti nella fase della selezione essere attenti nella fase successiva alla selezione questo da parte delle autorità competenti perché è delicatissimo il rapporto d'equilibrio tra un insegnante ed un bambino soprattutto e poi probabilmente come ho avuto modo di dire in occasioni simili probabilmente bisognerebbe pensare a dei periodi di compensazione di riposo chiamiamoli come vogliamo per questi insegnanti che sono costantemente quotidianamente a contatto con tanti bambini Colonnello oltre 40 gli episodi che in totale avete registrato ma quali vi sono rimasti particolarmente impressi come ha detto anche il signor procuratore quelli che rimangono impressi non sono tante le violenze che possiamo dire non erano così tali da procurare lesioni particolari ma più che altre quelle psicologiche ci sono rimaste in mente quelle dove la maestra a volte invitava gli altri alunni a vendicarsi nei confronti di questo bambino più piccolo che era abbastanza vivace e adesso l'andamento della pandemia in regione sono 152 nuovi casi riportati nell'ultimo bollettino risultato dei 543 tamponi processati per un tasso del 27,9% ci sono anche 207 guariti e con i 4 nuovi ricoveri salgono a 10 i posti letto occupati al Cardarelli tutti in area medica gli attualmente positivi in regione ne sono 3.111 e torna a riunirsi domani mattina dopo due mesi di sospensione dei lavori il Consiglio regionale del Molise la seduta sarà aperta dalla cerimonia di giuramento del nuovo garante regionale dei diritti della persona Paola Matteo tra gli argomenti scritti all'ordine del giorno una proposta di legge per la disciplina del terzo settore e una mozione a firma Fanelli in tema di politiche energetiche bene termina qui l'ultima edizione del nostro telegiornale l'appuntamento è per domani mattina con la prima edizione con la nostra rassegna stampa a voi tutti buonanotte l'appuntamento 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 dell'appuntamento l'appuntamento